E' giovanissima, soltanto 21 anni, la vittima dell'ultimo terribile incidente che aggiorna il bollettino di questa estate funesta sulle strade del Salento. Tornavano dalla festa di Ferragosto in uno dei locali della movida estiva gallipolina i cinque amici, tre ragazzi e due ragazze, tutti del barese, tra Bitonto e Giovinazzo, tutti tra i 19 e i 25 anni. Alle porte di Lecce, poco prima dello svincolo di L'Equile della 101 Salentina che congiunge Gallipoli col capoluogo, per cause che saranno accertate dagli agenti della Polstrada, il conducente della Ford Fiesta su cui viaggiavano a velocità sostenuta ha perso il controllo del mezzo e ha urtato violentemente contro il guardrail centrale per poi ribaltarsi più volte e terminare la corsa in un dirupo al lato della carreggiata. Per Francesco Berardi di Bitonto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla. Gli altri ragazzi, estratti dall'abitacolo con intervento dei vigili del fuoco, sono stati trasportati tra gli ospedali San Giuseppe di Copertino e Vito Fazzi di Lecce. Gravissimo un 19enne, sempre di Bitonto, ricoverato con fratture multiple in rianimazione nella struttura ospedaliera leccese, dove si trova in condizioni serie anche una delle due ragazze, una 21enne di giovinazzo. A Copertino, in codice giallo, gli altri due feriti, tra cui il conducente che ha riportato ferite più lievi. Rallentamenti della circolazione e code per circa due ore per il restringimento a una sola corsia della carreggiata, dovuto alle complesse operazioni di recupero del mezzo con l'ausilio di un autogru e di ripristino della sede stradale da parte dell'ANAS. Grazie.